Sempre la prossima settimana a Madrid. La pagina economica comincia oggi al Senato. L'iter del decreto salva risparmio. Servirà a mettere in sicurezza le banche in difficoltà. A partire da Montepaschi, intanto riceve consensi la proposta patuella di pubblicare i nomi dei grandi debitori. Pronti a pubblicare la lista dei grandi debitori. Mentre si avvicina il salvataggio pubblico da 8 miliardi per il Monte dei Paschi, il vertice dell'Istituto di Siena accoglie la proposta del presidente dell'associazione bancaria Patuelli di rendere pubblica la lista dei primi 100 debitori insolventi delle banche messe in risoluzione o salvate dall'intervento dello Stato, in modo che si sappia chi le ha messe in difficoltà. Dal governo ci sarebbe un via libera di massima tradotto in una mozione della maggioranza alla Camera con tanto di richiesta di istituire una commissione di inchiesta. Il sottosegretario Barretta parla di esigenza di chiarezza e di ricreare un clima di fiducia, ma precisa ci vuole prudenza. Per il garante non esistono impedimenti, le società non godono di tutela in merito alla privacy. Un atto di trasparenza lo definisce il sindacato dei bancari Fabi che plaude all'idea e si spinge oltre. Bisogna chiarire i rapporti tra i manager delle banche e le società debitrici, secondo il segretario della Fabi Sileoni. Stefano Marcucci, GR1.